Siamo arrivati all'ultima giornata per l'anno 2022 per il campionato d'eccellenza e chiaramente tutto quello che è successo lo andiamo a fare più reso conto, sicuramente una giornata abbastanza positiva per i colori del nostro territorio, anche se prendendo in evidenza il derby del golfo chiaramente il Gaeta ha battuto l'insieme a Formi, quindi è solo l'insieme a Formi che torna a casa a bocca asciutta, quindi il derby del golfo è un grande spettacolo di pubblico e in campo, anche se in campo durante il match c'è stato qualche passaggio non certamente positivo, quindi sicuramente quella parte di partita non è stata gradita a tutti, ma comunque terminato 1-0 il risultato sul campo, gol di Berlante, gran bel gol anche dell'attaccante appunto palermitano, per quello che riguarda invece di tricalcio si fa sul pari sul 2-2 e non riesce appunto a portare a casa il risultato di vittoria e quindi si deve contentare di questo pareggio, ma ricordiamo che ha giocato in casa contro un'ottima squadra che è appunto il Collacero Calcio che punta ancora a campionate di alta classifica. Monte San Biagio invece pareggia fuori casa contro l'Audace, quindi l'Audace che è tornato in mano all'ex gate Marco Di Rocco, quindi ci siamo appunto veramente in modo positivo anche qui, si prosegue per Monte San Biagio nel campionato che sta disputando, ricordiamo che la formazione di... No.